Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Vendevano bottiglie di olio al tartufo, ma senza tartufo Sequestre e sanzioni per oltre 20.000 euro indagati i produttori Inaugurato un nuovo padiglione al cimitero di Rosciano di Fano, la presenza dei sindaco A Fano per conoscere i segreti del mare, viaggio d'istruzione di una scolaresca di Gubbio Al via i lavori di riqualificazione della passeggiata di Lisippo su lungomare Apprezzamenti per i murales degli studenti Domenica c'è la Colle Marathon, ecco come cambia la viabilità Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Sul canale 17 di Fano TV Erano in bella vista in molti scaffali dei supermercati, quelli della grande distribuzione Si tratta di olio al tartufo ma senza tartufo Ovvero aromatizzato al tartufo e prodotto chimicamente Tuber bagnato un picco o trifola oppure comunemente tartufo Sulle potenzialità di questo tesoro della terra nessuno può dire nulla Ma sulla qualità di alcuni prodotti al tartufo ci sarebbe molto da dire e da indagare I carabinieri forestali di Pesaro e Urbino hanno scoperto una truffa E l'operazione Truffle ha accertato nella grande distribuzione il commercio di olio al tartufo Senza tartufo, aromatizzato solo con prodotti di sintesi chimica Che presentano in modo da ingenerare nel consumatore la convinzione di acquistare un prodotto di eccellenza I prodotti infatti erano commercializzati con etichette che enfatizzavano con parole e immagini La presenza del prezioso fungo ipogeo all'interno dell'olio Ma l'aroma utilizzato era una sostanza aromatizzante che è una sostanza chimica definita Si tratta del bis-metil-tiometano Un'essenza naturalmente presente nel tartufo Ma ottenuta per sintesi artificiale attraverso un passaggio della lavorazione nel petrolio Le indagini condotte dal nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale Del gruppo Carabinieri di Pesaro e Urbino Si sono sviluppate in un territorio di elezione per la produzione del tartufo E hanno interessato la tracciabilità dei prodotti rinvenuti sugli scaffali della grande distribuzione Il nucleo investigativo ha operato sei sequestri Tutti convalidati dalla procura della Repubblica di Pesaro Elevando sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro I sequestri hanno interessato numerose bottiglie di olio al tartufo Pertinenti a quattro marchi Le dite interessate, per conto dei responsabili scritti nel registro degli indagati Hanno già provveduto a modificare le etichette dei prodotti Si precisa anche che i prodotti commercializzati non sono pericolosi per la salute E che la grande distribuzione non è coinvolta in alcun modo in questa frode Questa mattina è stato inaugurato il nuovo padiglione al cimitero di Rosciano di Fano 176 loculi e circa 60 ossarietti di varie dimensioni Si articolerà così il nuovo padiglione del cimitero di Rosciano Bellocchi Che è stato inaugurato stamattina alla presenza del sindaco Seri e dell'assessore allevori pubblici Fanesi La mattinata è iniziata con il tradizionale taglio del nastro E la benedizione da parte del parroco Don Giuliano Marinelli Grazie al nuovo ampliamento potranno rientrare nel cimitero Le salme che nel frattempo per mancanza di spazio erano state collocate in altri cimiteri cittadini Nel mese di maggio l'ufficio Servizi Cimiteriali contatterà tutte le persone che hanno richiesto Che comunque vorranno trasportare le salme momentaneamente in altri cimiteri In questo e quindi sarà un mese abbastanza intenso per questo tipo di attività Interventi necessari dunque dovuti anche all'aumento negli ultimi anni della popolazione della prima periferia della città E che permetteranno ai residenti di avere più vicini i propri cari defunti Nella giunta di ieri abbiamo anche stanziato nuove risorse per il cimitero di Camminate Sulla quale avevamo preso un impegno per il suo ampliamento Quindi è un programma che guarda ad un bisogno importante per una comunità come la nostra Ma soprattutto lo facciamo anche tenendo conto di non dover sempre rincorrere l'emergenza Ma quella di dare una risposta nell'immediato ma che abbia anche la capacità di guardare al futuro Ed una funzionalità dei cimiteri del nostro territorio in base a quelle che sono le esigenze C'è stato un tamponamento multiplo oggi pomeriggio poco dopo le 17 sulla Flaminia All'altezza di Ponte Murello vicino Lucrezia Tre i veicoli coinvolti e nessuna conseguenza fisica per gli occupanti delle auto Che vista la dinamica dell'incidente hanno deciso poi di compilare il modulo di constatazione amichevole Sul posto la polizia locale di Fano per dirigere il traffico e coordinare le operazioni di rimozione Di uno dei veicoli dopo l'incidente che dopo l'incidente non era più in grado di marciare Alunni delle scuole primarie di Gubbio in visita questa mattina a Fano per conoscere i segreti del mare Quando si è ragazzi il primo aspetto che cogliamo del mare è quello legato allo svago Ai giochi, al mare vacanziero Far conoscere invece tutti gli aspetti che questa grande risorsa di cui l'Italia dispone Essendone circondata ed in particolare come le regioni adriatiche È lo scopo primario di questo percorso Intrapreso dalla cooperativa in collaborazione con i servizi educativi del comune di Fano Un'esperienza che abbiamo fatto con le scuole elementari di Fano A questo ha fatto seguito una pubblicazione che abbiamo distribuito gratuitamente a tutte le scuole del comprensorio fanese E ora lo ripetiamo in collaborazione con il comune di Fano anche per tutti quegli istituti, scuole, di città, limitrofe o dell'entroterra Vogliamo far conoscere qual è la realtà produttiva, l'economia del nostro territorio Una delle economie del nostro territorio E in particolare vogliamo valorizzare anche le nostre produzioni Tutti gli aspetti legati al mare sono stati toccati per far conoscere ai giovani studenti Tutte le risorse che il mare mette a disposizione Quali sono gli aspetti che più colpiscono i bambini, insomma che vengono toccati in queste giornate? La conoscenza della biologia marina, un tecnico, un giovane che abbiamo portato dentro la nostra squadra Che collabora con noi, un vecchio pescatore che descrive un po' le tecniche di pesca di oggi e di allora Oggi dopo le passate esperienze con le scuole fanesi In visita al mondo della marineria sono state le scolaresche della vicina città di Gubbio Allora, innanzitutto lo affrontiamo a livello geografico Perché quando facciamo in prima media l'Italia, logicamente facciamo anche le regioni Anche se non è programma di prima media, ma le riprendiamo per il fatto che alle alimentari vengono fatte più velocemente Però l'aspetto ecologico, fonte di sostentamento, risorse naturali, questo è un aspetto che tocca Sì, sì, lo tocchiamo perché facendo l'economia a livello geografico è logico che lo facciamo Anche le problematiche dell'inquinamento, lo tocchiamo e lo analizziamo anche La passeggiata di Lisippo, quella che si trova nella zona di Sassonia, al mare, nel porto turistico Cambia look e i murales, i murales che stanno realizzando gli studenti Stanno ottenendo ogni giorno, man mano che quest'opera prosegue, sempre più apprezzamenti Uno sguardo verso il futuro, scrutando l'orizzonte e le speranze che racchiude per i giovani e non solo È questo il tema scelto dai ragazzi dell'Istituto Olivetti e Seneca di Fano Per esprimere la propria creatività e portare un valore aggiunto alla camminata dell'Isippo Grazie ai loro disegni che pian piano stanno comparendo sul muro che costeggia la passeggiata E che ha come sfondo l'azzurro del mare Ci abbiamo l'argomento dell'orizzonte che è stato i professori E cioè dobbiamo rappresentare cos'è per noi l'orizzonte su questo muro Nove metri di muro per ogni due studenti Questo è lo spazio dedicato ai ragazzi che possono esprimersi raccontando anche qualcosa di se stessi Collaborando tra loro con la spensieratezza che in quanto artisti in erba li caratterizza E tu che cosa vedi nel tuo futuro? Si spera che migliorerà in senso tipo tutto inquinato Poi adesso diventerà tutto bello limpido Tutto senza inquinamento Entusiasta la gente che passa e apprezza i lavori Così come le professoresse che seguono e aiutano i ragazzi in vere e proprie lezioni a cielo aperto Lezioni d'arte ma anche di vita È un lavoro che dà soddisfazione a loro e anche alla città Perché abbedisce una passeggiata che io frequento molto, molto spesso Quindi io faccio un applauso a questi ragazzi E spero che si prendano altre iniziative del genere È una cosa molto bella, molto, molto, molto bella Una bellissima idea, molto, molto interessante Bravi ragazzi Non si distingue quasi più diciamo l'opera dalla costruzione architettonica della pista Molto interessante, anzi li guardavo con entusiasmo perché in questo momento non vivo più a Fano E a Bristol che è città di street art Quindi tornare e vedere ecco che le scuole iniziano a fare queste cose La città inizia insomma ad animarsi anche sotto questo punto di vista Visto che è uno dei miei posti preferiti qua comunque quando torno con piacere Quindi sì, contenta, felice Quindi guardavo con entusiasmo e ho fatto anche qualche foto Così torno a Bristol, farò vedere anche là Cosa ne pensa dei disegni dei ragazzi? Sono stupendi, si mettono di buon umore, veramente sì È vero che danno colore alla passeggiata Sì, ma aiutano anche lo spirito delle persone Altre volte non c'era niente, però questo muro in cemento così dà un altro aspetto Insomma, è tutta un'altra cosa, dai Spero che le cose migliorino, sempre di più Abelliscono quello che è un contesto già bello Ma abbelliscono anche i ragazzi che vivono un'esperienza completa Bellissima, di altruismo, condivisione con i cittadini Io sono entusiasta Sì, è una bella esperienza che vede anche questi ragazzi uniti Nel senso si aiutano, poi partecipano anche con la gente Perché chiede loro quello che fanno, che cosa fanno Come diventerà il loro disegno alla fine Per cui siamo molto contenti tutti Poi se il tempo ci assiste, che c'è sempre il sole, è anche meglio Altrimenti diventa un po' più faticoso il tutto L'importante è mantenere vivi i colori anche nei prossimi anni Allora, sempre rimanendo sulla passeggiata All'inizio però di questa lunga e bella passeggiata sul mare La prossima settimana inizieranno i lavori di riqualificazione È una delle passeggiate a piedi o in bici più belle della nostra città Il lungomare dell'Isippo Che ospita anche manifestazioni importanti Come la Colle Marathon Che si terrà in questo fine settimana E proprio per questo motivo I cittadini che abitualmente la frequentano Vorrebbero che la situazione Soprattutto nella parte d'ingresso della camminata Venga migliorata Con arredi urbani e maggiore cura Sia della siepe che della viole che la costeggiano Un po' tutto perché è proprio brutto È un'entrata proprio orribile Anche allargarlo un pochino Se no va bene Un po' più largo è meglio L'imbocco di questo passaggio era diventato molto ristretto E quindi adesso ho visto che in occasione della Colle Marathon hanno sistemato Magari rimettere quei fili dove mancano Magari viene un po' meglio Se no è bellissima la passeggiata Quello che riguarda questa splendida passeggiata Soprattutto l'ingresso però C'è secondo voi da migliorare qualcosa? No diciamo che abbiamo pazienza Quindi attendiamo con ansia che sia migliorato Si può sempre migliorare Forse là dove sono quei ragazzi Dove fanno quei lavori C'è più spazio Magari una panchina si sarebbe bene Perché mica tutti sono ragazzi Io vorrei fermare Anche per prendere una boccata d'aria No di mare Bisogna stare sempre in piedi Ho fatto prima con il sindaco E gli ho detto che doveva mettere delle panchine Verso la fine Proprio per stare seduti Per stare anche quanto è l'estate Un impegno quindi a migliorare Che il sindaco Seri ha messo già in agenda Con interventi che renderanno ancora più bella e suggestiva Questa finestra sul nostro mare E tra poco Dalla prossima settimana Partiranno i lavori Per adeguare Migliorare anche la prima parte della passeggiata Dove ci saranno sei nuove terrazze Che saranno delle aree di sosta Dei bel vedere Con delle sedute Quindi ci si potrà anche fermare Che renderanno ancora più piacevole la passeggiata Rendendo più ricco questo scorcio di città Che è quello del porto turistico Che fiancheggia il mare Che è piacevole da fare Sia nelle belle giornate Ma anche in quelle giornate invernali Che danno le sue suggestioni Quindi questo penso Sarà ancora un nuovo biglietto da visita Per la nostra città Che potrà essere gustato dai fanesi Ma anche da chi deciderà di venire A fare le proprie vacanze Nella nostra città Il sostituto procuratore di Pesaro Silvia Cecchi Titolare dell'inchiesta Sull'incendio doloso Ai danni dell'emittente Fano TV Ha nominato Enzo Criscione di Ancona Come perito della procura pesarese Per analizzare i dati contenuti In tre telefoni cellulari Appartenenti agli indagati Per il rogo del 23 marzo scorso Si tratta della presunta mandante Antonella Zaccarelli Del presunto esecutore materiale Fabio Di Lucera Di origini pugliesi Ma residente a Montecchio E di Giorgina Lepore Amica di entrambi Che avrebbe fatto da tramite fra i due La Zaccarelli ha a sua volta Nominato tramite il suo avvocato Nadia Biagiotti Un proprio consulente di parte Che assisterà a tutte le procedure per i tali Gli altri due invece Assistiti dall'avvocato Marco Defendini Non hanno ritenuto necessario Nominare un consulente Ceriscione dovrà depositare La sua perizia entro 30 giorni Sabato nelle piazze di Fano e Pesaro Lo staff oculistico di Marche Nord Propone in collaborazione con Unilit E Croce Rossa Italiana Un check up oculistico I professionisti di Marche Nord Sono disponibili a Pesaro In piazza del Popolo Dalle 9 del mattino alle 13 Per la misurazione della pressione intraoculare Nel pomeriggio si trasferiranno invece a Fano In piazza 20 settembre Dalle 15 alle 20 Il check up, lo ricordiamo, è gratuito Tutte le persone che si presenteranno Potranno avere un controllo oculistico Al fine di prevenire e diagnosticare più velocemente Il glaucoma E dall'attenso struttura del Lido Questa mattina è partita una staffetta Molto particolare Che non ha nulla di atletico o agonistico Però ha molto invece di simbolico Si tratta della staffetta della legalità Illegalità, pregiudizio, usura, gioco d'azzardo Condotte pericolose Temi diversi Ma che parlano lo stesso linguaggio Il linguaggio della dipendenza Molti modi per affrontare e comprendere queste tematiche Così impattanti sul tessuto sociale contemporaneo Alcune di queste vere e proprie piaghe sociali Come la dipendenza patologica da gioco d'azzardo Un bel modo per diffondere la cultura della legalità E sconfiggere il ghetto della diversità E la staffetta della legalità Iniziativa che l'IRSA Aurora Cooperativa sociale che si occupa di marginalità sociali Ha predisposto per la giornata di oggi Allora oggi organizziamo la quarta staffetta Della legalità All'interno della primavera della legalità Un modo per riflettere con i ragazzi Su la legalità o l'illegalità I messaggi a volte negativi Sulla quale dobbiamo riflettere Che ci arrivano da più parti Sulla mancanza di futuro Sul fatto che vivere in un certo modo Nella trasgressione è più interessante Che è la diversità e il pericolo Ecco su queste cose qua Vogliamo riflettere in modo un po' diverso Con i ragazzi in questa giornata Dopo essersi registrati e indossato le magliette bianche I partecipanti iniziano la camminata Il testimone è una pergamena Che è simbolo di continuità e collettivo Le tappe della staffetta sono state Le cooperative Italenti Itaca, Fuori Tempo e IRSA Aurora In ogni luogo gazebi e presentazioni delle attività Poi tutti insieme Ognuno scriverà sulla propria maglietta bianca Il messaggio della staffetta 2017 La diversità è uguale per tutti In occasione della Colle Marathon Domenica prossima ci saranno alcune variazioni di traffico Domenica sapete verranno coinvolti diversi comuni Barchi, Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piaggio, Cerase, San Costanzo E naturalmente Fano dove è previsto l'arrivo L'assessorato dunque alla viabilità e traffico del comune di Fano Comunica che durante la giornata di domenica Verranno modificate alcuni percorsi stradali Proprio per fare in modo che gli atleti possano gareggiare Senza difficoltà e senza pericoli Le zone interessate sono comprese nel tratto che va da Ponte Metauro alla zona mare In particolare sono interessati via Ruggeri, viale Adriatico, i due cavalcavia che collegano al centro storico E la zona del Porto E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale Vi ringraziamo per la vostra attenzione E vi ricordiamo che il 338 49 68 250 è a vostra disposizione per inviarci le vostre segnalazioni Con Whatsapp potete inviarci foto, video o semplicemente dei messaggi di testo L'informazione su Fano TV torna domani mattina alle 7.30 in diretta con Occhio ai Giornali La Rassegna Stampa A voi tutti gli augurio di una buona serata Arrivederci